Praticamente nel tempo la popolazione umana si è evoluta alla latitudine in cui è stanziata da diverse generazioni e qui vediamo la distribuzione della popolazione umana in base al colore della pelle. Le persone con pelle più scura appartengono a popolazioni che sono evolute nel tempo in regioni ad alta radiazione solare. Man mano che si va verso le alte latitudini troviamo popolazioni endemiche con pelle più chiara che vivendo in una regione con meno irraggiamento solare la pelle non ha avuto bisogno di sviluppare una carnagione ricca di melanina sufficiente a proteggere le cellule dalle radiazioni ionizzanti ultraviolette del sole. Poi sicuramente il colonialismo europeo degli ultimi secoli ma anche le immigrazioni delle popolazioni nei millenni precedenti hanno un po' mescolato la situazione. Però è pur vero che le popolazioni indigene più autoctone si sono adattate nel tempo all'irraggiamento della regione che hanno popolato per generazioni. E appunto adesso parliamo della melanina. La melanina è la proteina prodotta dai melanociti che dà il pigmento alla carnagione ed è il pigmento che assorbe i raggi ultravioletti proteggendo il DNA delle cellule da fattori ionizzanti. La melanina viene sintetizzata, cioè prodotta, da speciali cellule presenti nello strato basale o germinativo dell'epidermite note come melanociti e qui vediamo uno schema. Questi melanociti producono questa proteina, la melanina, che si diffonde nella pelle e che di fatto assorbendo i raggi scherma i nuclei cellulari con il DNA da le radiazioni ionizzanti ultraviolette. Gli ultravioletti sono radiazioni che hanno la capacità di danneggiare le molecole del DNA. Un DNA danneggiato può a lungo causare cellule maligne, quindi cellule tumorali. All'interno dei melanociti sono collocati speciali organelli, chiamati melanosomi, deputati proprio alla sintesi di questa proteina, la melanina. Il numero di melanociti è pressoché identico in ogni persona, dunque non cambia né in base alla razza né in base all'età, ma in base alla produzione di melatonina, quindi è la quantità di melatonina che dà il colore alla pelle, non la quantità di melanociti. In alcune etnie l'esposizione al sole stimola la produzione di melanina, ma non sempre salutare. Io per esempio sono un uomo caucasico e io sono una persona che si abbronza molto sotto il sole, ma ci sono persone con pelle più chiara della mia, come una persona irlandese dai capiti rossi, in quel caso quelle persone danno più a bruciarsi piuttosto che a sviluppare melanina. Nonostante gli indiscussi benefici protettivi del pigmento, sembra che l'abbronzatura non rappresenti un modo sicuro per aumentare la sintesi della melanina. Anzi, l'abitudine di esporsi al sole o ai trattamenti abbronzanti con le lampade solari per favorire l'imbronimento della pelle può provocare una serie di rischi pericolosi. Infatti l'abbronzatura dovrebbe essere un processo che avviene naturalmente ed è un processo che serve a proteggerci. Mettersi sotto il sole per abbronzarsi a forza, spesso costringendo il nostro corpo a stare per ore sotto il sole appositamente per avere un'abbronzatura nel minor tempo possibile, non è la cosa salutare. Personalmente io non mi metto mai al sole, ma poi alla fine dell'estate sono comunque abbronzato perché l'evidente aumento dell'irraggiamento solare durante l'estate e comunque ci espone a una produzione maggiore di melanina che fatta lentamente nelle settimane e nei mesi estivi è molto più salutare che cercarla di acquisire rapidamente mettendosi appositamente sotto il sole. Poi c'è chi lo fa anche in inverno con le lampade e quindi aumenta il potenziale di danno che può arrecare alla propria pelle. Infatti la pelle invecchia più rapidamente come risposta al photo-hating, ovvero all'esposizione della reazione ultravioletta, perché questa favorisce un accumulo di radicali liberi sulla cute. Vi ricordo che i radicali liberi sono quelle molecole ionizzate che danneggiano i tessuti cellulari e quindi accelerano i processi di invecchiamento perché costringono la pelle a riparare i danni più in fretta consumando quindi la sua capacità rigenerativa. Di conseguenza la pelle assume un aspetto invecchiato a causa della comparsa di segni dell'invecchiamento come rughe, macchie della pelle e disidratazione cutanea. L'esposizione prolungata della pelle al sole ne accelera i processi che poi la fanno sembrare più vecchia. E in particolare uno di questi è la comparsa di macchie scure quando la pelle subisce un processo di iperpigmentazione. La pelle è più esposta a rischio di cancro della pelle appunto, ad esempio il melanoma. Infatti la radiazione ultravioletta, sia naturali, quella solare, che artificiali, le famose lampade, possono provocare danni irreversibili al DNA delle cellule fino ad aumentare il rischio di tumore. Quando queste cellule con il DNA danneggiato si replicano rischiano di generare cellule cancerogene e quindi anche qui abbiamo un problema. Poi ancora la pelle è più esposta a infezioni di varia natura. Infatti le continue radiazioni ultraviolette del sole possono provocare un calo delle difese immunitarie. E infine le radiazioni ultraviolette possono intaccare gli occhi fino a provocare danni oculari di varia natura e identità, congiuntivite, arrossiamento, infiammazione, cataratta, ecc. Infatti questo è il motivo per cui quando si fanno le lampade conviene sempre coprire gli occhi perché comunque i raggi X danneggiano l'organo della vista. Alcune persone si sottopongono a trattamenti abbronzanti prima di una vacanza al mare nella errata convinzione di preparare la pelle al sole ma in realtà si sta creando un ulteriore danno alla pelle e la credenza popolare secondo la quale la bronzatura protegge la cute da eritremi e scottature solari non trova fondamento di verità. Infatti la bronzatura è solamente una protezione parziale e insufficiente a difendere la cute da danni del sole. La pelle cerca di difendersi con la bronzatura ma comunque i danni ci sono. Quindi aumentare la reazione solare pensando che una bronzatura possa renderci più o meno al sole oppure non mettersi la crema perché già abbronzati e quindi pensando che una volta abbronzati non si ha bisogno della crema è sbagliato. La crema va messa sempre anche quando si è già abbronzati. Parliamo ora dei casi particolari di pigmentazione come i casi di iperpigmentazione o addirittura mancanza di pigmentazione. Cominciamo dalla prima. Un'iperproduzione di melanina può colpire solo determinate aree della pelle e questo è il meccanismo alla base della iperpigmentazione cutanea. Praticamente le radiazioni ultraviolette generano radicali liberi ovvero specie reattive di ossigeno praticamente sono delle molecole ionizzate che utilizzando l'ossigeno ionico aggrediscono chimicamente i meccanismi cellulari i melanociti percepiscono queste molecole rispondendo con una produzione eccessiva di melanina e sulla pelle compaiono delle zone iperpigmentate localizzate che sono appunto le macchie cutanee. Normalmente le zone più colpite sono quelle più esposte al sole mani, viso, orecchie e collo e petto sono le aree più soggette a macchie cutanee a causa dell'eccessiva esposizione dei raggi ultravioletti. Poi abbiamo il caso opposto. Un'anomalia genetica può causare l'albinismo e questo è un problema perché l'esposizione al sole di queste persone non è sempre salutare se non addirittura deleterio. Che cos'è l'albinismo? L'albinismo è una vera e propria patologia ereditaria che consiste in un'impossibilità di sintetizzare la melanina cioè qui c'è un vero e proprio problema genetico in cui manca il gene che sintetizza la melanina e la pelle risulta assolutamente priva di pigmentazione sia pelle che peli. Le vediamo in tutte le razze anche nelle persone di colore quindi che naturalmente dovrebbero avere un'alta pigmentazione della pelle possono presentare questa caratteristica. Le persone affette da albinismo hanno una pelle molto chiara con capelli depigmentati e le iridi degli occhi azzurre a causa della mancanza di produzione di melanina. La causa di questa malattia, come già detto, risiede in una mutazione genetica che provoca una sostituzione di menoacidi nell'enzima tirosinasi. Questo è il cofattore essenziale di alcune reazioni che trasformano la tirossina nella melanina quindi mancano alcuni passaggi nella catena di produzione proteica della melanina e quindi alla fine non si produce la melanina. Poi abbiamo il caso della fenilchetonuria che cos'è? È una patologia ereditaria che consiste in una ipopigmentazione generalizzata con, in alcuni casi, delle zone più iperpigmentate. In questo caso, i malati di fenilchetonuria non sono in grado di convertire la fenilalanina in tirossina e in altri termini il meccanismo che porta alla sintesi della melanina viene meno a causa di questa mutazione genetica. Come in tante malattie genetiche, praticamente la produzione di una proteina importante segue una specie di catena di montaggio. Se il gene che regola uno o più ingranaggi di queste lunghe e complesse catene di montaggio viene meno o funziona male, tutto il processo non viene portato a buon termine ed è questo anche il caso di questa malattia. La mancanza della sintesi o un malfunzionamento di un passaggio intermedio che porta alla fine la corretta produzione della melanina. Le lentigini di persone celtiche sono fenomeni di iperpigmentazione localizzata. Però, mentre le lentigini, in un certo senso, hanno un loro fascino o comunque sia non vanno a condizionare poi così tanto l'aspetto sociale di una persona, soprattutto in popolazioni dove gran parte delle persone hanno i capelli rossi e hanno i lentigini, ci sono casi particolari in cui questa mancanza di produzione di melanina ha delle conseguenze anche sociali, come ad esempio la vitiligine. Che cos'è la vitiligine? La vitiligine è una forma patologica in cui si assiste alla comparsa di macchie bianche sulla pelle, causate da una progressiva inattivazione dei melanociti. La scarsità di melanociti si traduce in una impossibilità di garantire alla pelle un aspetto omogeneo, dunque la pelle appare a macchie bianche. La vitiligine non è una patologia vera e propria, piuttosto può considerarsi un problema di natura prettamente estetica. Tuttavia, le persone che ne soffrono devono avere cura di proteggere sempre la pelle con una crema solare ad alta protezione, soprattutto nelle zone in cui la melanina non viene prodotta. Le zone in cui la melanina è carente sono infatti più esposte al rischio di scottature solari ed eritremi. Però c'è da dire che di recente alcune casse della moda, come ad esempio di Sequal, hanno scelto delle modelle che hanno questa caratteristica per promuovere i loro prodotti. Quindi, in un certo senso, questa caratteristica è stata utilizzata per dare un marchio di connottività a un certo prodotto, ma anche per creare quel senso di rappresentazione e di inclusione che oggi in realtà serve e che poi manda messaggi positivi sulle accettazioni sociali di persone che per le loro caratteristiche estetiche possono subire discriminazioni o delle ingiustizie sociali. Questo è solo un estratto della lezione completa. Nella lezione completa vedremo quali sono i vari strati della pelle e cosa li caratterizza. Poi parleremo della differenza che c'è tra uomini e donne, perché comunque c'è una differenza anche nella struttura della nostra pelle. Poi vedremo alcune caratteristiche sugli annessi cutani, in particolare i capelli, e come si evolve la lopecia in modo diverso nei due sessi. E poi parleremo di alcune caratteristiche o anche patologie, come ad esempio l'albinismo, ma non solo. Potete trovare questo ed altro ancora nella lezione completa, la numero 14 del mio corso, l'apparato documentario, quindi la pelle, e molto altro ancora ovviamente nel mio canale YouTube e sulle mie pagine social prof. Antonio Loiacono. Grazie.